salve buonasera a tutti bentornati sul mio canale su passione acquatica allora oggi vi voglio spiegare un attimino più nel dettaglio cos'è la pesca del carfishing allora la pesca del carfishing come dice il nome pesca alla carpa e allora diciamo che è stata introdotta in italia nei primi anni 90 per poi allargarsi in tutto il paese in una maniera veramente esponenziale infatti ora negli ultimi anni si sono creati addirittura dei laghi appositamente per praticare questo tipo di pesca diciamo esclusiva ok il carfishing da cosa deriva fondamentalmente il carfishing non è altro che una pesca a fondo una pesca a fondo un attimino più tecnica un attimino più tecnica perché mentre prima il mio babbo il mio nonno pescava con la pesca a fondo classica cioè un piombo lanciava con una canna e aspettava il movimento del cimino o del campanellino il vecchio campanellino ora invece noi lanciamo con dei terminali un pochino più tecnici ma questo lo vedremo in altre in altri video o eventualmente se volete andare a riscontrare quello lì che dico sul mio sito su www.passionepescagabri.cimdo.com vedete varie tipologie di finali che ho fatto qualche anno fa ecco detto questo l'attrezzatura l'attrezzatura allora l'attrezzatura fondamentale è avere delle canne robuste delle canne molto robuste io uso parecchio le due libri e 75 dove ci sono dove diciamo vado a insediare pesci un pochino di minor taglia e dalle tre libri alle tre libri e mezzo dove vado a insediare dei pesci di maggior taglia più grandi perché più il libraggio è minore giustamente e più abbiamo una canna più flessibile dove tra virgolette ci si può divertire di più ecco comunque diciamo che se uno vuoi comprare se vuoi mettere ora nel mondo del car fishing e vuoi comprare delle canne buone un attimino più a largo raggio penso tra le due libri e 75 le tre libri e possa pescare un attimino un po' da tutte le parti la lunghezza delle canne la lunghezza delle canne va intorno ai 3,80 m 4,20 m ora nel car fishing vengono spesso spesso descritte in piedi sicché vengono 12 piedi 13 piedi 12 piedi e mezzo una cosa cioè diciamo la unità di misura viene usata i piedi i mulinelli i mulinelli comunque ritornando alle canne un attimino una piccola parentesi non sono altro che delle canne insomma intorno a 4 metri discretamente robuste ecco detto questo i mulinelli i mulinelli si può usare qualsiasi tipo di mulinello purché ci centri dentro un filo di un discreto diametro perché noi andiamo comunque a pescare a lanciare dei piombi 100 120 140 grammi quindi comunque ci vuole un filo discreto un diametro minimo del 30 del 35 ecco quindi il mulinello non è importante tanto come è fatto ma è importante la capienza della bobina quella è fondamentale poi c'è chi usa come me i mulinelli con i bud runner sarebbe non altro che una semplice doppia frizione di sgancio che libera praticamente il mulinello quando il pesce diciamo a bocca tira il filo scorre il filo del mulinello e c'è una frizione praticamente libera che sarebbe la seconda frizione a mezzo giro del mulinello si blocca la frizione e va a lavorare semplicemente come un mulinello normale invece chi non usa questo e usa la frizione unica e singola va semplicemente allentare la frizione del mulinello e poi la va a chiudere al momento della boccata ma fondamentalmente è la stessa cosa dipende più che altro uno come si trova ecco e che la portata ai mulinelli che ha comunque l'importante è che sia capiente e robusto ora dove appoggiamo queste canne una volta i nostri babbi i nostri nonni le appoggiavano sul puntale sul portacanne come dicevamo noi qui a firenze e invece sul car fishing viene appoggiato su questo portacanne chiamato road pod e il road pod non è altro che un portacanne molto robusto dove la canna ha due punti d'appoggio nel manico e circa un metro dal mulinello e dove nella parte dietro abbiamo semplicemente dei v o dei blocca dei blocca canne dei blocca manici di canne insomma nella parte anteriore invece abbiamo l'attrezzatura tecnica l'attrezzatura tecnica cos'è la parte anteriore ci sono degli avvisatori visivi anche lì ora sul mercato ne abbiamo di svariate di svariato prezzo di svariata qualità comunque secondo me a mio avviso bisogna spendere il giusto ma avere un buon rapporto qualità prezzo quindi vedete voi insomma comunque nell'arco di qualche centinaia d'euro si ora si comprano prodotti molto discreti molto discreti posso dire questo poi abbiamo sempre sotto l'avvisatore acustico abbiamo l'avvisatore visivo l'avvisatore visivo ce n'è più modelli e c'è la scimmietta a catenella oppure con linguetta rigida comunque non è altro che un non è altro che un una lippettina che si può mettere sul filo che tende che rende il filo molto teso a modo che quando il pesce a bocca il filo si muove e va a salire se il pesce è in tirata e se pesce incalata va a scendere e quindi va a lavorare sulla ruzzolina sulla rotellina dell'avvisatore visivo e abbiamo un suono acustico insomma ecco questo qui è una cosa poi ci sono gli avvisatori visivi più tecnici peso non peso regolabili semi regolabili ma questo sono tutte cose un pochino in più più tecniche poi bisogna affrontare insomma secondo uno doveva pescare se va a pescare in fiumi con corrente con poca corrente con profondità elevate con poca profondità queste sono cose superiori ripeto il filo è una cosa fondamentale filo 30 35 di diametro oppure della treccia della treccia sempre di ragguardevoli diametri allora il nylon di solito viene usato dove noi lanceremo in minor in minor distanze la treccia in maggior distanze perché la treccia essendo più rigida noi avremo un contatto più immediato con la tirata del pesce quindi mentre il nylon è molto più elastico esempio se il pesce sta mangiando a 400 metri a 300 metri prima che con il nylon prima che noi avremo la boccata il movimento sulle canne magari il pesce ha già fatto 5 6 o 7 metri perché abbiamo l'elasticità del nylon invece con la treccia abbiamo un rapporto sul pesce molto più diretto quindi se noi andiamo a calare le lenze a 200 300 metri molto probabilmente imbobina è meglio imbobinare una treccia e non un nylon comunque ripeto queste sono sempre cose soggettive e personali è giusto che ognuno faccia come crede io sto soltanto dicendo le cose che io che io uso e che io ho provato ok riguardo agli ami anche gli ami ci vogliono ami sempre di ragguardevole spessore ami con occhiello strettamente con occhiello perché per fare la rig comunque l'occhiello è una cosa fondamentale e quindi ci vogliono gli ami con l'occhiello ma questi finali magari li vedremo prossimamente comunque gli ami sono anche loro rapportati sempre all'esca che viene messa in base all'esca bisogna mettere il tipo di boyless cioè non possiamo mettere una boyless di un 10 mm e mettere un amo del numero 1 ecco il numero 1 lo poi nel numero 2 lo può mettere su una boyless di 20 di 24 mm su una boyless di 10 mm ovviamente mettiamo un amo più piccino può essere un 6 un 8 così quindi anche quello è una cosa molto fondamentale perché ora questo magari è un'altra parentesi perché la carpa comunque nell'aspirare l'esca nell'aspirare l'esca l'amo deve fare una certa rotazione la rotazione non viene fatta in una maniera edonea se non è fatto se non è preciso diciamo la se non è rapportato bene la grandezza della boyless con la grandezza dell'amo ma questo anche questo lo vedremo in futuro magari con un video apposta dedicato ai finali allora il tipo di piombi il tipo di piombi vabbè il piombo è non è semplicemente un peso quindi è inutile insomma stare a dilungarsi sui piombi l'unica cosa sul peso e dove dobbiamo pescare cioè anche lì c'è svariati tipi di piombi tantissimi tipi di piombi sono soggettivi sono personali l'importante è che il piombo venga usato quello lì giusto cioè in un fiume dove c'è un po di corrente non possiamo mettere un piombo di 100 grammi a pallina perché sennò la corrente lo porterebbe via metteremo magari un 140 grammi piattellato con delle con degli spunzoni che si va a ancorare al terreno ecco l'importante è questa cosa qui è dovuto al filo grande anche il discorso del piombo grande perché comunque andremo sempre a pescare con piombi di 100 140 grammi 120 grammi ecco qua e questa è l'attrezzatura poi per iniziare a pescare a car fishing bastano queste cose qui il portacanne cioè il road pod le canne e il mulinello è un po di attrezzatura varia ovviamente se andiamo a pescare nei laghetti o in giornata se la cosa si prolunga per giorni come facciamo noi a volte stiamo anche una settimana la situazione è un attimino più complicata più complicata diciamo perché a livello di attrezzatura ovviamente uno più vuostare comodo e più deve spendere e deve comprare loro comunque io ora vi dirò due o tre cose più fondamentali sono la tenda che è la nostra casa quando siamo a pescare tenda va comprata buona a meno uno la compra una volta e non ci pensa più la sedia perché stare in piedi è impossibile stare seduti scomodi è veramente impossibile anche quello quindi comunque bisogna usare delle attrezzature idonee per la nostra comodità e la nostra vita migliore per affrontare la sessione di pesca quindi tenda importante sedia importante un'altra cosa importantissima il lettino anche il lettino per dormirci è importantissimo perché dormire male vuol dire pescare male stare male per quattro giorni e quindi non è vita ripeto quindi tenda lettino e sedia sono tre cose veramente fondamentali per sopravvivere più giorni quasi di più del mangiare poi vabbè le altre cose il fornellino è indispensabile anche per fare il caffè per fare la pasta per fare qualsiasi cosa quindi queste qui sono poi uno che ha fatto un po di campeggio o insomma ha fatto un po di cose in natura riesce a gestirsele da solo però ecco ripeto la cosa fondamentale tenda lettino e sedia sono le tre cose indispensabili per vivere poi noi vabbè noi abbiamo anche il frigorifero ma quello è un'altra cosa cioè noi ormai a tanti anni insomma che facciamo questa pesca e ci piace stare veramente comodi infatti si dice sempre con un mio amico ci piace stare quasi come a casa e quindi però ecco le cose fondamentali sono queste va bene che dire per ora vi lascio spero di essere stato chiaro di essere stato utile sicuramente a chi vuol avvicinarsi nel mondo del car fishing e niente ripeto se mi volete contattare o mandare un email per chiedermi qualche cosa andate pure sul mio sito in fondo a destra c'è scritto contatto va direttamente sulla mia mail e mi potete fare qualsiasi tipo di domanda non c'è problemi io cercherò di rispondervi il prima possibile ripeto il nome del sito www.passionepescagabri.gimdo.com gimdo con la j e imdo bene spero che vi sia piaciuto che vi abbia fatto piacere stare questi 10 un quarto d'ora insieme a me e ci sentiremo ci vedremo prossimamente ciao ragazzi alla prossima